Oggi sono iniziati i lavori in piazza Anticareggia per la ripamitazione stradale. Quanto dureranno i lavori? La direzione dei lavori ci ha comunicato che nel giro di 3-4 settimane i lavori saranno ultimati o saranno in via di ultimazione. Chiaramente i tempi sono anche molto ricollegati alle condizioni meteo che sappiamo che nel mese di gennaio e di febbraio non sono molto positive, come è giusto che sia. Comunque la ditta cercherà di realizzare questi lavori nella migliore maniera possibile nei tempi giusti che ci occorrono. Chiaramente piazza Anticareggia aspettava da anni di essere ripresa perché purtroppo ha degli avvallamenti e quindi il manto stradale non è coerente e proprio per la sicurezza stradale era doveroso fare questo tipo di intervento. Cercheremo di farlo nella migliore maniera possibile nei tempi più brevi possibili.